Secondo l'agenzia di stampa Reuters, che cita fonti della resistenza, un gruppo di miliziani legati ad Al-Qaeda in Iraq avrebbe rapito nella città siriana di Raqqa il prete gesuita italiano Paolo Dall'Oglio. La Farnesina ha avviato le verifiche necessarie. Di sicuro c'è che da ieri sera padre Dall'Oglio non risponda ai suoi ricapiti telefonici, né a quello siriano né a quello italiano. Dopo aver vissuto 30 anni in Siria dove si è impegnato nel dialogo tra cristiani e musulmani, nel giugno del 2012 il sacerdote di origini romane era stato espulso dal paese con l'accusa di essersi schierato apertamente contro il regime di Bashar al-Assad. Di recente padre Dall'Oglio è tornato almeno una volta nei territori controllati dai ribelli nel nord del paese. Il 24 luglio scorso poi aveva rivolto una petizione personale a Papa Francesco chiedendogli di promuovere un'iniziativa diplomatica urgente e inclusiva per la Siria per assicurare la fine del regime torturatore e massacratore della famiglia Assad. Non sarebbe la prima volta che religiosi cristiani finiscono ostaggi dei miliziani ribelli in quell'area della Siria. Il 22 aprile scorso vicino ad Aleppo due vescovi ortodossi, uno siriano l'altro greco, erano stati rapiti mentre tornavano in città dalla frontiera turca dopo una missione di cui non si sa nulla. A prelevarli sarebbero stati alcuni jihadisti ceceni, una delle nazionalità dei miliziani fondamentalisti, arrivati in Siria per unirsi a combattere contro quella che definiscono una guerra santa contro il presidente Assad. Da allora dei due prelati non si è più saputo niente. E dalla Siria non si hanno più notizie neanche dell'italiano Domenico Quirico, l'inviato della stampa scomparso dal 9 aprile scorso. Il 6 giugno, in una breve telefonata alla moglie, Quirico aveva detto di stare bene.